Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova lezione sulle espressioni regolari. Nella lezione precedente abbiamo studiato quelli che sono definiti i Capturing Group, che sono gruppi che memorizzano la corrispondenza trovata e su cui è possibile agire successivamente nel pattern attraverso Back Reference. Ma facciamo un esempio così ricordiamo meglio cosa sono. Scriviamo acc2 acc. Scriviamo il nostro pattern. All'interno del gruppo creiamo una classe di caratteri AC, a cui associamo un quantificatore 3. Selezioniamo direttamente il 2. E poi utilizziamo la tecnica del Back Reference per trovare di nuovo l'occorrenza di ACC. Bene, se però non è necessario fare in modo che un gruppo memorizzi la corrispondenza per poi effettuare Back Reference, allora è possibile utilizzare i Non Capturing Group. Per farlo è sufficiente inserire subito dopo l'apertura della parentesi tonda, punto interrogativo, due punti. Cioè la sintassi è questa. Apertura parentesi tonda, punto interrogativo, due punti, e il pattern che vogliamo inserire nel gruppo. Bene, quindi facciamo un altro esempio. Mettiamo qui un numero davanti e scriviamo il pattern. Creo un gruppo 0,9 1, più occorrenza a cui seguo uno spazio e di nuovo scrivo. Quindi creo un gruppo come prima AC quantificatore seleziono il numero la cosa però che devo fare cioè che voglio fare è rendere il primo gruppo di tipo Non Capturing quindi faccio punto interrogativo due punti. Questo gruppo quindi è un gruppo di tipo Non Capturing vediamo che cosa significa. Se utilizzo adesso il Back Reference per riferirmi di nuovo a questo gruppo questo gruppo di tipo Capturing dato che ci sono due gruppi ci verrebbe da fare Backslash 2 ma è sbagliato perché per quanto riguarda i Non Capturing Gruppo non devono essere conteggiati quindi questo gruppo di tipo Capturing è il gruppo numero 1 quindi facciamo Backslash 1. Bene, come possiamo notare viene selezionato tutto quello che ci interessava una cosa che voglio farvi notare dalla prima lezione ad adesso vediamo come possiamo scrivere già delle espressioni regolari non complicate ma certamente abbastanza articolate e come dicevo nella prima lezione in realtà l'argomento espressioni regolari è meno ostico di quello che si può pensare inizialmente. Bene, per questa lezione è tutto ci vediamo nella prossima lezione.